Clemen Cellebul, la prestazione che ci voleva per la Luba, avete riscattato il 3-1 di Berlino, vi siete rimessi prontamente in corsa anche in Champions League? Sì, ci voleva, diciamo che ci siamo divertiti magari più di altre volte, ci siamo entrati in campo con una grinta molto forte, ci siamo detti anche prima che ci divertiamo oggi e abbiamo dimostrato, abbiamo portato a casa questi tre punti nella Champions che erano molto importanti, andiamo con obiettivi e adesso nella prossima partita subito che saranno nel campionato. Un buon pubblico anche, martedì sera avete portato 3.000 persone in un turno infrasettimanale, un bel successo per voi? Assolutamente sì, è un bel successo, soprattutto durante adesso che tutti vanno nel centro commerciale a comprare regali e cibo per feste che arrivano, è stato molto bello rivedere tutta questa gente che è venuta a sopportarci e fare tifo per la squadra, dobbiamo ringraziare anche loro che ci hanno sostenuto e ci hanno fatto un bel tifo anche oggi. Clemen, Natale in tranquillità, poi il 26 ci sarà la partita di Super Lega contro il Latina, non bisogna assolutamente abbassare la guardia? Assolutamente no, dobbiamo andare avanti con la testa giusta, con obiettivi che ci siamo fatti, pensare partita dopo la partita e soprattutto giocare per vincere, solo questo che esiste.